Ragazzi sapete che c'è? La verità è una, è una sola, è che potete fare un applauso, perché? Perché anche oggi abbiamo raggiunto le otto ore di stream, ma non staccheremo, perché è uscito il GOTY di quest'anno, V-CO-NG Eccomi ragazzi, tra l'altro sono io il protagonista del gioco, non so se l'avete notato, ma premio impulsante qualsiasi, nuovo viaggio Quanto è alto? Madò, la grafica spacca, eh Oddio Prende il bas... Ma che c***o È enorme quel rob... E lo vuole fightare Oddio, non gliene frega niente Ok Nuvo la speedy Madò, l'Olimpo, regà Guarda, è il maestro Gianmarco Ma regà, ma c'è una schiera di... Molto suggestivo Quanto dirlo Madò, quanto sono fatti bene Questo sembra quello di LOL, però, come si chiama Zir? Il maestro è in salvo È Unreal E perché lo capisci? Stanno uccidendo le scimmie Mamma mia, regà Cattivissimo Stupido cane Mi fai sembrare un mostro Madò, ma che fregno è? C'è una ficca sulla fronte, regà Usì, oh mamma mia Ok, devo fightare lui, quindi, dai Ma ora, regà Ok Eh, mo' tocca capire, però, un attimo Ok, R3 aggancia Ok Va bene, classic Porco Dio, inizio a panicrollare, regà Ah, non mi dice altri tasti, by the way Ma l'ha lisciato Ok Dici che hai scriptato che perdo? Dove no? Ok Il fatto è che non levo un cazzo, regà Cioè, mi sembra troppo strano Oddio Il Buddha guerriero triunfante Hai idea di quante anime darebbe tutto per l'immortalità? Eh, ti ho visto Non sei iscritto ancora al canale E non provare a schifparmi Devi iscriverti E ricordati Di bere 10 litri d'acqua al giorno Così muo E io godo Oh Che non capisco il suo Pattern Vado Attento, attento Aia Porco Dio Vado, sono un fenomeno Boom Godo Ma porco Le cure Mannaccia Ah, se ferri ho bene Mi sa che c'ho più vita Se gli sto sotto Gli faccio danno così No Ok Ok Dai Come cazzo potevo Saperlo Oddio Oddio il bastone No 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 Eh rip E riprega Oddio no Oddio no Sarà tutta Sarà tutta Tipo parte No No Sarà tutta Parte Della leggenda Di Wukong Tipo Eh, i ripperotti Mi sa Mi sa che è andata La casa And so Endes The last tale Eh, l'amquina Crede che assoluti che C'è chiudere dentro? Questi sono i sei sensori di Saga. Ma nessuno ha mai visto loro. Nessuno di anni. Non riesco a capire tutti i paesi. Non riesco a capire. Ma tra voi potrebbe essere uno che è destinato. Uno che dovrebbe riconoscere. Leclerc. Black Mith. Wukong. Absolute Cinema. La grafica è bella. Non potete dire di no. Guarda i peli, del frutto. Guarda le foglie. Lui è il gato. E io la volpe. E siamo in società. Era una trappola. Vai, fightiamo. Ho fatto un perry. Ho fatto pure abbastanza facile. No però raga. Mi devono dire come si corre. Ecco RB. Mi sento caricato. Vabbè questo. Ho imparato prima. Ok. Ok. Il fascio di luce come il The Ring. Cos'è una grazia? Ah vedi ok. Ah vedi ok. Ma inquietante sto cosa. Non è il maestro. Uomo radice. Nonno Ago. Non si dice nessuno di me. Nessuno si dimentica di te. Grazie. Nonno a sesso scarti i nemici però. Resta dei lupo. Beh me l'ero caricato da un bel po' eh. Ah c'è l'attacco tipo a sorpresa. Ok li shotto se carico tutto. Il che è strano perché nei giochi inizialmente è difficile che ti facciano shottare quel po'. Che è sta roba? Scanda della forma. Pezzo di me. Dovrei informarmi sulla leggenda di Wukong. Anche per capire meglio. Sì questi sono tipo i falò. Però io non lo vedo tanto come un soul propriamente eh. Allora non vorrei bestemmiare video ludicamente parlando ma a me. A moltissimo. Di Sekiro. Ha qualche meccanica dei souls. Ma allo stesso tempo c'ha i movement action di Sekiro. Molto simile. Vorrei capire la mappa come si apre. Ma? Oh no il primo boss. Faccio la figura di merda. Il primo mini boss anzi. Eccoci. La cosa che ancora non mi è chiara è le cure. Con L2 non ho ben capito cosa si fa. Perchè? 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 Ok quindi c'è la magia? Questa è il maestro che stava aspettando di far la ria all'insolo. Diventato così ragazzi. Ah vedi Sì sì Fondamento a pose del bastone Build Vigore Arti marziali Sopravvivenza La salute massima O il vigore Riduce il costo di vigore Della schivata Ogni livello dell'alternet Riduce il costo E il vigore dello scatto Se è tecniche mistiche Ma per ora eviterei Predestinato Quindi le clerke Fa roteare il bastone Attorno a sé Deviando i proiettili Questo non sembra male Ogni livello dell'alternet Mentre si rega La distanza di scontro E il primo colpo di attacco Leggero Vabbè Questo riduce i costi Questo aumenta la salute E la stamina E questo gli dà Delle nuove cose Questo del bastone Non l'ho mica capita Ma io siccome sono uno Che abuso Della schivata Così così Mi farei un po' Ridurre meno Il costo della schivata E sono uno Che attacca tanto Col primo attacco Leggero Anzi sono uno Che in realtà Perde vita spesso Quindi mi aumento La salute massima Lascia like E lascia un commento Commento Se no ti arriva Un destro sotto il mento Reactions e gaming Puoi trovare di tutto Non troverai mai Un edit brutto E la salute Grazie a tutti.